Siamo qui con Andreozzi, il mister della Lokomotiv, purtroppo una sconfitta. Dalla panchina che partita è sembrata? Partita che mi preoccupa di meno rispetto all'altra, nel senso che con l'Orione abbiamo perso, secondo me, immeritatamente giocando malino, oggi abbiamo perso, secondo me, immeritatamente giocando bene. Abbiamo, secondo me, tenuto in mano la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poco efficaci, probabilmente anche un po' sfortunati, una traversa, diverse situazioni. E poi l'Alba Roma è una squadra forte, che è una squadra che io rispetto molto, perché è una squadra che ha le sue caratteristiche, le sfrutta al meglio, ha sfruttato al meglio le sue frecce davanti, con questi contropiedi molto rapidi. Noi, secondo me, fino al 3-1, che ci ha un po' tagliato le gambe, soprattutto dal punto di vista mentale, abbiamo fatto una partita importante contro una squadra importante, infatti sono soddisfatto complessivamente. Peccato per il risultato, qualche imprecisione. Dobbiamo migliorare da un punto di vista soprattutto della personalità, quando andiamo sotto, perché sul gol del 3-1 ci ha messo nelle condizioni di non riuscire più a esprimere quasi niente. Questo è un peccato, perché c'era ancora tempo per poter rientrare in partita. Però, c'è tutto il tempo, le partite sono tante, abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti, anche con le squadre più forti, quindi dobbiamo semplicemente lavorare e stare sereni. Grazie, mister, in bocca al lupo. Grazie, grazie.